Vediamo un po'. E' un 1.700 di cilindrata. E' già la terza che prendo ed è da dieci anni. Posso chiedere un gioiellino del genere quanto costa? 25.000 euro. Vivo per la moto, ho speso questi soldi per la moto e non per altre cose. Come si sente ad andare in giro con quest'auto? Super sportiva, telaio in carbonio per cui rigidissima, velocissima, bene ci si sente. E tutti un po' la guardano. Purtroppo, lato negativo. Quali sono le cose per le quali spende di più? Sono abituato bene nei quadri perché amo l'arte e poi dopo anche ovviamente l'abbigliamento, la macchina, insomma. Per fortuna uno se lo può permettere, questa è la cosa importante. A proposito di lusso e di soldi, si parla di agevolazioni fiscali per chi utilizzerà il banco, Matt. Lei che cosa ne pensa? Sono d'accordo, ovviamente può diventare anche una piccola costrizione a livello personale, però a livello generale io penso che sia una misura giusta perché è un piccolo sacrificio usare il banco, Matt. Però se si può tracciare le spese degli italiani che purtroppo sono un po' birichini, tra virgolette, io penso che il governo faccia una cosa giusta. Perché questo pagare con la carta di credito, sì, 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 è anche una garanzia, tutto sommato. Se ci saranno davvero queste detrazioni fiscali, ben venga. Questa l'hai pagata in contanti o in... No, io questa l'ho pagata, ho fatto il bonifico. Io l'ho presa di seconda mano, diciamo quasi nuovo, l'ho pagata 54 mila. Io l'ho presa perché mi piaceva. Poi ovviamente è una macchina così, non è una macchina che tutti vedono tutti i giorni, quindi sicuramente attira. Grazie.